dramma, manca ancora a contatto la parte sinistra dello schieramento, si ritrae Goblingar partiti Ida Iguelta, sopra Anza, il Ceum a largo Gary MP a contatto Grammo di Azzurra per linee larghe poi Guaranaes in bocco della prima curva insiste Gary MP, i 200 in 13,4 l'errore di Ida Iguelta seconda posizione per il Ceum, in terza rimane Guaranaes alla corda, in terza corsia l'errore anche Gary MP si ritrova così al comando, il Ceum con all'esterno Giovanni che sfila in 400 metri in 27,8, forse qualcosa in più, in terza corsia, gol per Rio a lato di Grammo di Azzurra seconda pariglia lì fuori per il Cristal, a largo anche Guffre, Garzelli, Chiu, l'errore la squalifica e retrovie per Galadram, la corsa perde il suo principale protagonista, il 600 in 43,1, gol per Rio è passato nei confronti di Giovanni al paletto degli 857,5, 29,7 seconda frazione, terzo sotto è il Ceum, fuori scoperto, Grammo di Azzurra fatica ad avanzare gli altri per le vie brevi, anche Guaranaes, Gonzaga, Chiu, il chilometro iniziale della leader in 1,13, misura che vale meno, spara Guffre sulla dritta in fronte, pedinato a Garzelli, Chiu li piglia tutti in infilata, Guffre anticipato da il Cristal quando si è all'imbocco della piegata conclusiva, si va al completamento dei 1,002, chiusi a paletto in 15,4, il Cristal e Guffre alle prese, avanti a Garzelli, Chiu, gli altri più arretretti, a 250 al terreno, sui tracce ai primi anche Giovanni che ha faticato a liberarsi dell'impasse, è passato Guffre nei confronti di il Cristal, deve guardarsi ora da Garzelli, Chiu e Giovanni in mezzo la pista insieme a Griffith Valma, è rientrato il Cristal a Guffre, di dentro anche il Ceum, allargo Giovanni, il Cristal che viene a vincere davanti a Guffre che può essere solo secondo per il terzo, allargo Giovanni a ragione di il Ceum, 1,59, un filo scarso in totale, 1,14,3, la media al chilometro, record in carriera e vittoria sorpresa in tre squartete, il Cristal Giuseppe Lombardo Junior, il train da programma di Lucio Gulletti, secondo posto per il Goffre, per il terzo c'è fotografia fra Giovanni a largo e il Ceum di dentro, 4,13,